Allora, devo dirvi una cosa a voi a casa, è stata talmente importante questa conferenza stampa di Draghi che Mentana, che era molto indeciso, se venire o non venire, è venuto. No, sono venuto, perché ho dovuto tradire la 7 per vedere la conferenza stampa. Io speravo di vederla da te, invece tu hai alternato, allora ho dovuto vederla altrove. Va bene, mi ha fatto anche un appunto, va bene, va bene, prendo nota. No, devo dirlo, anche i tuoi cassese da Milano, da Milano è dovuto andare addirittura lì, no? Era davanti alla 7, ha visto che avevi gli ospiti, è andato direttamente alla conferenza stampa. Si è mosso, si è mosso. Va bene, non è vero, ve l'abbiamo raccontata divinamente, non ho ascoltato Enrico Mentana. Sotto Corona, prego. Buongiorno. Sotto Corona, ora si parla solo di Draghi, devi andare veloce. Benissimo. L'ha vista la conferenza stampa? Certo. Tutta? No. Adesso non si ha visto la 7 o no. Va bene. Comunque in onore del direttore ho tre fotografie. Benissimo, grazie. Benissimo, visto che le apprezzo.